All'Onisos questa è Patitiri stiamo partendo col traghetto per andare a Schiros la nostra prossima tappa come vedete Patitiri non è che sia molto grande là c'è una spiaggia là c'è un'altra ma non c'è nessuno con la spiaggia lì prima c'era un po' di gente adesso saranno tutti a mangiare adesso vedo un posto interessante di là vado a fare un filmatino dall'altra parte della nave qua è il porto l'acqua comunque è sempre bella blu e trasparente dal traghetto in partenza per Kimi e poi Schiros sto filmando questa zona appena fuori Patitiri qui non ci siamo stati ma non vedo neanche altra gente che vede a fare il bagno però magari non è neanche male lì sotto quella roccia comunque là c'è una spiaggia non so se è quella di Vozzi perché vedo che c'è lì subito dopo un'altra baia là c'è una grotta là in fondo quindi Vozzi potrebbe essere o entrambe le baie sono di Vozzi o una è di Patitiri e l'altra di Vozzi comunque quelle non le abbiamo visitate e là sullo sfondo la solita peristera ovvie è molto bello ma cosa non sa? la mosatena è un'altra ma cosa non è che nel centro è la fisica il tema del resto significa che io le bambini da un'altra il nostro